Voci e indiscrezioni sui prossimi appuntamenti elettorali e sulle relative candidature si sprecano, ci sono servizi e notizie su candidati presidenti in pectore e su possibili alleanze tra partiti e coalizioni civiche, ma la verità è che davvero l'incertezza su quello che accadrà nel 2023 è ai massimi livelli. E di scenari futuri se ne comincia a parlare in Casa Fratelli d'Italia, dove il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro ha convocato una riunione di quadri e dirigenti ad Agnone. La notizia del giorno è che dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso di Lorenzo Marcovecchio, ex sindaco proprio di Agnone, nel partito di Giorgia Meloni. Ma non solo Marcovecchio e situazione politica di Agnone, l'argomento clou della riunione sarà sicuramente un altro, quello delle ultime dichiarazioni di Michele Eorio, anche lui di Fratelli d'Italia, che si è detto disponibile ad una nuova candidatura presidente della regione alla testa di uno schieramento trasversale che comprenda anche movimenti e le famose, sempre più discusse, coalizioni civiche. Come sia possibile conciliare la linea politica di un centro-destra monolitico, come quella propugnata da sempre dalla Meloni, con quella di un centro-destra aperto, come quella ipotizzata da Michele Eorio, è il nodo che dovrà essere sciolto e anche abbastanza presto a livello di Fratelli d'Italia molise. Una decisione che non può prescindere anche dal duro confronto in atto tra una parte di Fratelli d'Italia ed una maggioranza regionale, che portando il limite della percentuale minima di ingresso al 5%, ha reso molto più difficile la vita delle potenziali coalizioni o liste civiche. La considerazione finale la esprimono comunque le cifre degli ultimi sondaggi nazionali, qualunque sia la decisione per il Molise del centro-destra nazionale o regionale, non può prescindere da una considerazione. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito, viaggia intorno al 22% e le strategie politiche ed elettorali senza Giorgia Meloni non sono pianificabili per nessuno, altrimenti si ripeterà quanto accaduto a Isernia con la vittoria del centro-sinistra.